Non siamo noi? La famiglia! Hey, come state? Nel video di oggi, Vittoria scambia il povero Papa Fedez per un cavallino a dondolo, divertendosi così a giocare. A casa, di ritorno dalle vacanze, ad aspettarli c'è Paloma, che riempie i Fedez di coccole. Vi lascio al video, buona visione. Ci sei? Tieni di forte! Palomella, Holyfans, 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 sì, la mia Palomella, la mia Palomella! Vieni qua, vieni qua, vada, ciao! Ciao, ciao! Ciao ragazzi, ho fatto un grande rinforzamento prima di rinforzare nella mia nuova casa, e queste sono alcune delle cose che puoi trovare nel Vestiaire Collective, sul mio profilo. Qui puoi vedere che hai un piccolo di tutto, e spero che puoi dare queste pezzi una nuova vita. Puoi trovare tutte le cose sul mio profilo. Se ti è piaciuto il video, lascia un like, ed iscriviti al canale. Ciao!